Se riguardo le aspettative delle persone che partecipano al mio seminario Successful Presentation c'è sempre qualcosa legato alla comunicazione non verbale e lo stesso vale quando durante due giorni del seminario chiedo loro che cosa è piaciuto o che cosa non è piaciuto di presentazioni di altri, cioè quando si sono trovati a fare parte del pubblico. Scorrendo la lista degli argomenti troviamo sempre qualcosa che riguarda la voce, la postura, la gestualità, la comunicazione non verbale o quello che gli inglesi chiamano il delivery, cioè come un oratore presenta al proprio pubblico, che è fondamentale per la credibilità di uno speaker. L'audience infatti si forma un'idea, un'immagine dell'oratore anche e soprattutto in base a come presenta e per spiegarlo meglio.